così ciao ragazzi qui l'ex bentornati sul mio canale ed eccomi qui con un nuovo video sì avete letto il titolo e sì ho visto la nuova serie prodotta netflix su resident evil parliamone allora ragazzi io parto con una premessa che io non avevo mai visto nessun trailer di questa serie sono voluto arrivare alla visione degli otto episodi completamente blind se vogliamo dire così non sapendo assolutamente niente di trama personaggi e quant'altro e quindi ero totalmente all'oscuro di tutto l'unica cosa che sapevo è che c'era una sorta di nuova raccoon city ambientata nel futuro e già questa cosa mi ha fatto cagare addosso per intere notti ma vabbè ragazzi cosa parla di cosa parla questa nuova serie netflix questa nuova serie netflix a tema resident evil parla di due sorelle ovvero billy e jade figlie di albert wesker aspetta fermi albert wesker ha delle figlie mi sono perso qualcosa ma nei videogiochi c'è un no infatti ma che cazzo conosco la sacra perfetto allora già qua partiamo con un punto vabbè potreste dire è una serie non canonica no invece hanno detto che è canonica quindi non deve non deve non è non deve essere canonica ragazzi no ma proprio no ragazzi a me la serie è piaciuta un termine troppo grande mi è piaciucchiata qua e là alcune cose ma il 10 per cento il restante 90 per cento ero lì tipo così albert wesker allora aspetta prima ragazzi prima di arrivare a questo punto che aspetta mi deve ancora mi si deve ancora attivare l'incazzatura un attimo prima di arrivare a questo punto parliamo un'altra allora la serie tv si focalizza su jade e billy ovvero queste due ragazzine quindi la serie è ambientata in due archi narrativi ragazzi sia nel passato che nel futuro infatti l'arco narrativo delle due sorelle da piccole si svolge nel 2022 mi sembra proprio il giorno d'oggi il nostro giorno d'oggi ecco diciamo così mentre l'altro arco narrativo è con jade quando è adulta ed è mi pare nel 2036 quindi nel futuro quindi questa serie vuole essere ambientata cioè è ambientata nel futuro della saga che tutti conosciamo videoludica ragazzi che tutti amiamo la saga videoludica intendo e la serie parla appunto di billy e jade queste due ragazzine che si trasferiscono a questa in questa nuova città dal nome new raccoon city mamma mia la la fantasia e cercano un attimo di vivere una sorta di vita normale dopo gli avvenimenti della raccoon city appunto passata ecco anche se loro non erano ancora nate però loro padre sì quindi le due ragazze vanno a scuola ragazzi a un certo punto veramente allora i primi episodi i primi tre episodi sono di un noioso che veramente ragazzi sono di un noioso ma che la noia della noia della contronoia della provo noia delle noie incontrastate delle luci supreme dei castelli degli dei degli zombie dei nemesis no ragazzi la serie parte veramente male cioè i primi tre episodi sono un calcio non dico dove incredibili parte di un lento assurdo dal quarto all'ottavo episodio si lascia un po' guardare diciamo così migliora migliora c'è un po' più di azione un po' più di coinvolgimento a livello di trama e quant'altro ma i primi tre episodi sono veramente un calcio nel culo insomma Bill e Jade vanno a scuola arrivano in questa nuova città chiamata nuova Raccoon City vanno a scuola si iscrivono a scuola e il loro papà è niente poco di meno che Albert Wesker com'è Albert Wesker conosciamo tutti Albert Wesker no? è ovvio esatto Albert Wesker cazzo cioè il cattivo per Antonio Masi nel senso è lui è lui com'è Albert Wesker in questa serie tv? perché? perché? cioè adesso voi mi dovete dire il perché levate i diritti a sta gente levate i diritti di fare i film in live action o le serie tv come cazzo si chiama i Constantine Studios come cazzo si chiama toglieteli i diritti Capcom falle tu le serie tv i film falli tu come quelli in CGI che vabbè sono un po' la Resident Evil 6 ma sono carini voglio dire sono Resident Evil perlomeno i personaggi sono i personaggi di Resident Evil no qua è niente Albert Wesker di colore pelato di colore pelato cioè l'uomo più bianco del mondo tutto biondo tutto incazzato pelato di colore io non sono razzista non sono razzista ma porca putta cioè c'è mossa moda che è nel film di Welcome to Raccoon City mi fate Gillis Panica che non c'entra un cazzo mi fate Leon che è un rincoglionito che non c'entra una sega mi fate ah Wesker che è un bonaccione sembra Candy Barbie qua me lo fate di colore di colore pelato di colore pelato tant'è che in un episodio si vede Albert Wesker con i suoi vestiti classici quindi giacca di pelle tutto occhiali da sole neri coi capelli tipo sembra Blade ve lo ricordate Blade? è lui è Blade non è Wesker è Blade il personaggio non c'entra una sega interamente con Albert Wesker qui lo vediamo un papà un papà di famiglia gentile bravo premuroso protettivo vabbè poi veniamo a scoprire che in realtà è un clone di Albert Wesker sempre di colore ma è un clone di Albert Wesker io un attimino avevo risultato quando ho saputo dei cloni perché ho pensato magari tra l'altro lo citano Albert Wesker che è morto in un vulcano nel 2009 perché Resident Evil 5 è ambientato nel 2009 e Wesker è morto in un vulcano quindi la ho goduto un pochino perché ci sta ma non era di colore Wesker nel 2009 non è mai stato di colore Wesker nel 2009 non è mai stato di colore Wesker nel 2009 mai io lì ho pensato che avessero portato in vita Wesker e messo la sua coscienza in qualche modo in un altro corpo lì si spiegava perché fosse così diverso ho detto cazzo sarà così per forza non mi possono fare un Wesker di colore invece no è proprio lui è proprio lui mi hanno ficcato pure Lisa Trevor a cazzo di cane ho apprezzato vederla ma non c'è si vede per un minuto neanche no neanche 30 secondi e basta con Albert Wesker di colore quindi nel filmato c'è sempre con Lisa Trevor quindi ai tempi Resident Evil 1 quindi era sempre di colore per loro era sempre stato di colore Wesker ho letto critiche che dicono gli zombie fanno cagare gli zombie sono d'accordissimo ragazzi in questa serie tv gli zombie fanno pena cioè sono veramente brutti sono fatti male tant'è che ho detto io appena ho visto gli zombie di questa serie tv ho mandato un messaggio nel mio gruppo appunto dove siamo io e Angie e tutti gli altri amici Gloria eccetera ho mandato un messaggio dicendo ragazzi ma in questa serie tv i zombie sembrano dei fake zombie di The Last of Us cioè non c'entrano un cazzo con gli zombie Resident Evil c'è tutti questi funghi tutti questi brutti tutti questi brufoli giganti pus tutti così tutti uguali non c'entra proprio niente sembrano gli zombie di The Last of Us fatti male però poi ho letto critiche sui mostroni giganti c'era tipo il bruco gigantesco verso l'inizio della serie poi c'era il coccodrillo gigante infettato col T-Virus tutti che dicono i mostri giganti che cagare ragazzi il coccodrillo gigante c'era anche Resident Evil 2 quindi io ho apprezzato vedere un coccodrillo gigante bellissimo ci sta il bruco in Resident Evil 3 Nemesis sull'originale c'era un vermone gigante quindi non vedo perché il bruco si è vero potevano fare un bruco un po' più horror nel senso un po' più marrone tutto brutto invece hanno fatto un bruco multicolor che sembrava preso da lì c'era il paese meraviglia e messo su Resident Evil 2 quello sono d'accordo un po' troppo colorato avrei fatto una cosa un po' più creepy un po' più insomma un po' più disgustosa ecco più che questo brucone tutto colorato là sono d'accordissimo ma che si tratti di un bruco gigante ragazzi ci sono sempre stati mostroni orribili su Resident Evil cioè non prendiamoci per il culo gli squali giganti il vermone su Resident Evil 3 l'alligatore su Resident Evil 2 cioè ci sono sempre stati ragazzi i mostroni bruttoni ma io ho apprezzato l'idea del coccodrillo mi è piaciuto molto sono sincero la trama come ho detto si divide in due archi narrativi passato e presente tra rigolette futuro perché è ambientato poi nel 2036 con una Jade che è questa ragazza di colore che è la protagonista adulta lei è una fa parte appunto di una mi pare si chiami dell'università proprio fa ricerche conduce ricerche sul virus T sugli zombie quindi studia è in giro per il mondo che studia gli zombie i loro comportamenti cercando di trovare risposte su una cura più che una cura un diciamo un metodo per migliorare la la vita sul pianeta quindi magari sfruttare gli zombie o comunque non farsi notare dagli zombie trovare un metodo per non farsi per isolarli completamente infatti lei fa anche ricerche sulla comunicazione tra tra gli zombie pure lì vabbè lasciamo perdere gli zombie orribili poi ci sono stati i leaker i leaker sono stati carini anche se si sono anche quelli si sono visti dieci minuti poi per l'intera per il resto della serie cioè mi hanno messo i leaker sulle copertine della serie tv in un episodio venti minuti ci sono forse quindici dieci minuti il mostro fatto meglio dieci minuti poi basta non si vede più un leaker vabbè anche i cani zombie classici uno uno molto importante per la trama di questa serie perché il cane morde una delle due sorelle ovvero billy lei viene infettata ma si scopre che è un po' più resistente al virus vabbè non stiamo qui a parlare full spoiler della serie tv proprio a livello focus ecco a livello focus sono qua per dirvi le mie le mie impressioni dopo averla vista ci sono molti riferimenti ci sono molti riferimenti si vede addirittura in una scena si vede una macchina da scrivere riferimenti che un fan ovviamente un veterano come me gradisce gradisce vedere questi riferimenti ma la triste verità dei fatti è che oltre a quei riferimenti è una serie di merda è una serie di merda cioè è carina si lascia guardare dal quarto all'ottavo episodio perché ripeto l'inizio è orribile si lascia guardare ma di resident evil ha solo quei riferimenti cioè probabilmente se questa serie la chiamavano the zombies back era meglio cioè di resident evil ha solo quei pochi riferimenti cosa che ho apprezzato anche alla fine scena colpo di scena viene citata anche Ada Wong no però io non penso che facciano una seconda stagione di questa serie visto che sta floppando in un momento incredibile fa cagare a tutti e quindi non penso che vedremo mai Ada Wong a sto punto forse è meglio così perché se mi fanno un Ada Wong bionda caucasica visto che Wesker me l'hanno fatto di colore velato Ada Wong che è giapponese me la fanno guarda norvecese vichinga me la fanno Ada Wong Ada Wong viene citata perché appunto alla fine Wesker uno dei cloni di Wesker quindi il papà delle ragazzine si sacrifica gli dà un biglietto con scritto cercate gli dice cercate questa persona scritta in questo biglietto loro prendono il biglietto poi se ne vanno alla fine della serie Jade apre il biglietto e c'è scritto Ada Wong il suo indirizzo Giappone Tokyo mi sembra e vabbè e poi finisce la serie non ci siamo non ci siamo cioè a sto punto veramente non fateli più i film le serie tv perché ragazzi è una maledizione cioè qua veramente si rimpiange la saga di Anderson si rimpiange i film con Mila Jovovich perché almeno quelli c'era la topa tutte gnocche almeno quello porco Dio poi Jill era Jill allora una cosa che non si può non dire è che almeno nei film di Anderson i personaggi alcuni non tutti erano fedeli ad esempio Jill Valentine in Apocalypse era una figa assurda era bellissima stesso vestito del 3 perfetta anche l'attrice era perfetta perfetta vabbè in Afterlife mi hanno messo quel Chris Redfield mio Dio quello di Prison Break che cazzo vabbè lasciamo perdere per non parlare dell'Ion e di Barry non tocchiamo quell'ergomento però Jill era una figa assurda ci stava da Dio Jill era fatta da Dio in Apocalypse anche il personaggio di Mila Jovovich Alice completamente nuovo e quindi non inerente al gioco però era bello era un bel personaggio a me piaceva anche il Nemesis carino primo film di Anderson il primissimo Resident Evil è un bel film di zombie cazzo tu lo vedi a parte le trashate che poi si iniziano da metà film in poi lei inizia a fare Matrix e da lì vabbè non le lo perdonerò mai perché fino a quel punto il film era veramente Resident Evil quelli perlomeno sono riconoscibili hanno la loro identità può piacere o non piacere ripeto ma là sono gusti però comunque a livello di atmosfere è molto vicino a Resident Evil mentre parlo per i primi quindi fino all'1 e il 2 già il 3 Extinction quello nel deserto non mi ha fatto impazzire ma l'1 e il 2 secondo me non si può dire niente ma qui manca quella cosa ripeto se non chiamavano la serie Resident Evil era meglio era meglio cioè su The Walking Dead gli zombie sono fatti 55 milioni di volte meglio non capisco il perché sui prodotti Resident Evil non riescono a fare a fare bene non ci riescono porca putta ma a sto punto togliete i diritti a sta gente perché è incapace e da Capcom falli tu falli tu Capcom falli tu i prodotti se tv e film falli tu sono sicuro che se li fanno a Capcom esce qualcosa di buono o perlomeno qualcosa di dignitoso ragazzi questa serie è carina non è che mi ha fatto cagare l'ercio ok tranne i primi episodi ma poi si guarda cioè è una serie tv ma non c'è niente di Resident Evil non c'è quella magia non c'è quell'atmosfera non c'è niente è quello che mi fa incazzare capite non lo so raga non lo so non ci siamo non ci siamo cioè a questo punto guarda se proprio mi deve io ho i giochi quindi Resident Evil sono i giochi alla fine se proprio dovete farmi prodotti serie televisive continuatemi a farmi film in CGI come Infinity Darkness continuatemi quella fatemi la seconda stagione di quella anche se è un po' la Resident Evil 6 però perlomeno ha l'atmosfera ai personaggi che sono quelli cioè non ha cazzate come in questa serie tv o nel film di Welcome to Raccoon City questo ragazzi è il mio pensiero su Resident Evil la serie io ragazzi io vi dico di guardarla perché almeno mi fate un'idea soprattutto ai fan della saga però ve lo dico già rimarrete delusi ripeto è una serie che si guarda ma ma non ci siamo per niente detto questo ragazzi nulla questa era la mia impressione mi sono anche forse dilungato troppo sulla serie tv nuova di Nerds and Evil detto questo fatemi sapere la vostra nei commenti ci vediamo al prossimo video sempre solo qui sull'Extube ciao 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 Grazie a tutti.